Sindaco, la città in attesa firmerà l'ordinanza per le mascherine nel periodo di Ferragosto? Abbiamo condiviso col prefetto e con le forze dell'ordine, in occasione dell'ultimo comitato per la sicurezza e per l'ordine pubblico, di emanare questa ordinanza precauzionale perché oggettivamente nei giorni 14, 15 e 16, tra tutte le iniziative che il Bescovo organizzerà, pur non potendosi tenere la processione classica, comunque avremo la veglia e una messa a Piazza Libertà e in più, visto anche il probabile esodo verso Avellino, è meglio tenere sotto controllo Piazza Libertà del Corso. Quindi in questi tre giorni sicuramente renderò obbligatorio l'utilizzo delle mascherine. Dal 17 vedremo se dovessi percepire, non dico il rischio, ma evidentemente la possibilità di un sovraffollamento lungo il Corso e Piazza Libertà, emanerò una nuova ordinanza, non di mattina, ma voglio prima valutare come andranno le cose in questi tre giorni. Sindaco, si terranno i fuochi naturalmente al Piazzale dello Stadio, lì come si faranno ad evitare gli assembramenti? L'utilizzo delle mascherine, perché immaginiamo che ci possano essere un po' di averinesi e non solo, anche di irpini che verranno a vedere i fuochi. Guardi, io credo che sia più opportuno farli venire lì e quindi immagino di poterli anche controllare, piuttosto che lasciarli organizzare ovunque senza un minimo di controllo. Quindi credo che obbligando all'utilizzo della mascherina comunque consentiremo di poter assistere ai fuochi tra via De Gasperi, magari anche sulla Smile Arena, che insomma si presta bene anche per osservare i fuochi e lungo altre strade della città, tra l'altro il Piazzale dello Stadio fa sì che i fuochi possano essere visibili in parecchie zone di Avellino. Cosa si sa di questi positivi ad Avellino? Che indicazioni si possono avere? C'è preoccupazione? Sono monitorati? La situazione è sotto controllo? Al momento non c'è preoccupazione, c'è precauzione. Nel senso che i casi che abbiamo registrato attraverso il tampone della ASL sono relativi a un paio di giovani che sono tornati ad Avellino. Nel frattempo io in via precauzionale ho messo in quarantena tutti quelli che stanno tornando dall'estero o dal nord Italia e quindi da questo punto di vista siamo molto attenti, c'è grande collaborazione con l'ASL. Siamo sempre con la guardia alta, massima attenzione perché giusto in questa fase, visto il grandissimo lavoro che ha fatto la comunità che rappresento negli scorsi mesi, è giusto e necessario continuare a mantenere la più alta attenzione possibile. Auguri per il suo compleanno, ma questo non sarà questo menageo per la città. Ma guardi, io credo che questo messaggio che per alcuni possa sembrare anche banale e che io ritengo molto simpatico, in realtà tende a far cambiare un po' l'approccio e credo di esserci abbastanza riusciti, io vedo uno spirito diverso all'interno della comunità. Non è che con questo approccio positivo noi risolviamo tutti i problemi, ma li affrontiamo meglio. Partire la mattina alzandosi con il broncio, già rassegnati, ci fa vivere peggio e ci fa affrontare in maniera peggiore la giornata e tanti problemi che ognuno di noi deve affrontare ogni giorno. Avere invece uno spirito positivo, un approccio che ci dia speranza, che ci dia la voglia anche di lottare, credo che ci possa aiutare, poi i problemi rimangono, lavoriamo ogni giorno per soluzioni, ma credo che questo rinnovato spirito positivo e soprattutto aver riacceso un po' la fiamma della speranza, della voglia di lottare, di osare, di sognare, sia stato un aspetto positivo per la città e di questo sono molto contento, anche abbastanza orgoglioso e questa etichetta è in giù, mi sembra che stia anche funzionando. Oggi c'è la panchina azzurra, mi sembra, al Parco Santo Spirito per l'autismo. A proposito di autismo, a che punto è il centro di valle? Credo domani, se non ricordo male, mi pare che sia il 14, giusto per non dare notizie, non c'è problema. L'abbiamo fatta apposta, non volevo svelare questo segreto, abbiamo rovinato la sorpresa, ma guardi, noi abbiamo innanzitutto grande attenzione verso i bimbi autistici e verso le famiglie di questi bimbi che poi man mano che crescono diventano anche autistici e adulti. È un fenomeno il cui numero purtroppo sta crescendo per una serie di fattori. Innanzitutto prima c'era la tendenza magari a non dirlo, e questo era anche un problema culturale che abbiamo superato. Poi devo dire che lo spettro autistico si è molto ampliato e le diagnosi cominciano ad arrivare in numero sempre più consistente. Questo aiuta tante famiglie e tanti bimbi a ricevere le attenzioni e le cure giuste per superare questo disturbo o comunque per contrastarlo. Rispetto al centro per l'autismo, ormai davvero siamo in dirittura d'arrivo, ma la questione non è tanto strutturale ma è quanto gestionale. Mi pare di poter dire che grazie all'affidamento del servizio presso la struttura ASLA di Sant'Angelo dei Lombardi si possa aprire una chance anche ad Avellino. Dopo il ferragosto incontrerò il manager dell'ASLA, dell'elettrice Morgante, con la quale vorrò affrontare pragmaticamente questa questione. le proporrò una ipotesi di soluzione e mi auguro di poterla condividere e quindi di far partire così come vogliamo il centro per l'autismo e cioè con un servizio dedicato a questi ragazzi.